Un mano, fonti di orrore spaventoso. Nonostante però la generale indirizzazione della pace, nel giro di due decenni tutto il mondo fu di nuovo in guerra. I radici del nuovo conflitto stavano corpi dei trattati di pace nel 1919, curiosa miscela di potenza e di moralità, un misto di moralità e di economia, al confronto dei quali gigantigia l'operato del congresso di Liena nel 1815.